Ciao a tutte, ciao a tutti, ci tengo a precisare perché vedo che regna un po' di confusione e questo a causa mia che stasera non c'è la live su Zoom, bensì è l'8 di febbraio e pensate che ho fatto una confusione persino nel registrare un video ho detto 8 di gennaio, vabbè mi si perdoni, mi si perdoni, comunque ecco non c'è stasera la live e ripeto, mi scuso, l'errore è mio, proprio mio personale, l'ho fatto io, l'ho fatto io questo errore, ci tengo a precisare quindi vi chiedo scusa, ci vediamo l'8 di febbraio alle 20.45 su Zoom, un abbraccio grande, tra l'altro nel sito verrà messo qualcosa di più dettagliato adesso non è messo proprio tanto tanto bene, ecco, un abbraccione grande e di nuovo mi scuso per questa cosa ciao a tutte, ciao a tutti